Atomic Hawks Ultra 130S GV, uno scarpone con una calzata stretta e a basso volume per dare potenza e stabilità. Lo scafo offre la massima personalizzazione e prestazioni top grazie alla tecnologia Pro-Lite e la scarpetta Mimic Platinum può essere modellata alla forma del piede e a completarlo la tecnologia Memory Fit. Ha una vestibilità anatomica con una pianta di 98 mm. Hawks 130S, un po' difficile da entrare dentro a questo scarpone, ho avuto delle difficoltà. Una volta al suo interno avvolge molto bene la parte all'altezza del secondo gancio ma ho sentito dei vuoti e poca pressione sia in punta che nella parte del tallone. Anche il gambaletto mi è rimasto un po' più largo anche se ho provato a chiuderlo il più possibile. Mi ha dato davvero delle bellissime sensazioni, sensazioni di chiusura e avvolgimento del piede. Una volta chiusi i ganci, una buonissima risposta. Sono davvero curioso di provarlo in pista. Questo scarpone l'ha fatto nero rispetto alla colorazione rossa abituale. L'ho trovato molto confortevole ma al suo tempo anche molto stretto sia nella parte sotto che in quella sopra. Il tallone molto bloccato che mi ha dato molta sicurezza. Domani lo proveremo anche in pista. Uno scarpone pianta 98 che si adatta molto bene al piede. Un pochettino difficile in ingresso, un pochettino difficile in uscita, però una volta calzato sembra quasi un pianta 96 quindi un po' più stretto e più avvolgevole. Sono curioso di provarlo in pista. Una scarpa che risulta subito facile sia in ingresso che in uscita, poi però così a secco sembra una scarpa comunque molto tecnica. Nonostante un last 98 lo trovo comunque molto avvolgente sul piede, non ho trovato punti di vuoto e anche il gambetto risponde molto molto bene. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.